Però il dottor Cavalier Bolla deve risolvere un quesito, un discorso, la paura di un telespettatore o telespettatore dice non l'ho capito, dice l'Italia sta fallendo e ci hanno detto che fra poco ci portano via anche i beni immobili, ci portano via anche la casa. Che fare? Come dobbiamo comportarci? È proprio vero? Dobbiamo avere paura di questo? Prego. Dovrebbe essere qui un professor Malvezzi a spiegare queste cose sicuramente meglio di me, però mi rifaccio a qualche cosa che ha già spiegato lui più volte. Non è escluso che in futuro ci sia un'attenzione ad appropriarsi di tutti i beni immobili. Però faccio anch'io il dribblatore di domande se mi posso permettere. Certo. Vi facciamo la gara a chi le dribbla meglio questa domanda. Ci ho messo un po' a capirlo, che cosa avesse di particolare questa trasmissione rispetto a tutte le altre. Noi abbiamo fatto un tentativo tutti insieme, e questa sera lo ascolto ancora anche con Povia, di insegnare qualcosa a qualcuno. Cioè la nostra trasmissione, almeno le puntate dove ho partecipato io, ma ho visto molte delle altre, anziché fare intrattenimento, si sono dedicate a portare dei concetti. Ed è importante. È importante perché nel momento in cui tu insegni qualche cosa, e questo lo ha messo in pratica sempre Malvezzi, che mi ha insegnato tantissime cose nel modo di portare gli argomenti, non hai bisogno della controparte. C'è una cosa, o è vera o non è vera. Quindi nel momento in cui Malvezzi la spiega, non c'è bisogno di qualcuno che rompe i coglioni sollevando dubbi. L'ho detto in francese perché c'è Scandurna, tanto lo saluto. Fantastico, fantastico, noblesse oblige. Sta buono, sta buono. È giusto parlare in francese. E questa cosa è importante perché? Cosa succede invece tutta dall'altra parte? Parlavo prima del tentativo di far cambiare idea, di variare la percezione delle persone. Che stanno confondendo la propaganda con l'intrattenimento. Vito, hanno fatto mesi a fare propaganda, ci siamo abituati nelle trasmissioni che sembrano di intrattenimento, stanno facendo propaganda. Ci stanno confondendo, sai che ci hanno anche insegnato a lavarci le mani perché io a 55 anni mi chiedevo come me le lavo le mani. Sono problemi. Qui invece abbiamo portato persone che hanno insegnato, ognuno con i propri mezzi, con la musica. Ascoltate, lui ha parlato di note, io ascolto le parole che lui bisbiglia. La moneta puttana, lo dico io sempre in francese perché ci sta al francesismo, che lui bisbiglia, lascia capire a me quelle cose, sarò sensibile come faccio nelle copertine, a determinati argomenti, ma mi permettono di concentrarmi su un argomento molto particolare. E vado a prendere questi dettagli e mi danno il significato della canzone. È inutile che dico gli altri come sono bravi ad insegnare. Questa è l'unica trasmissione che io conosco che fa una cosa del genere. Poi magari domani ci commentano, diciamo che siamo brutti, cattivi e barboni. Ma ormai in passato la lezione è finita. Andate in pace. Ecco.